Ecco, finalmente dopo tre quarti d'ora arrivano su anche loro. Ehi, deficiente! Vabbè, come dicevo, siamo arrivati nella provincia di Arezzo, qui la chiesa ancora niente. Ma pazienza, un saluto tutti assieme. Finite qui. Ciao! 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 Milo! Ah, Milo, Milo, massimo rispetto a Milo. Eccolo qua. Eccolo rispetto a Milo. Milo, grande Milo, piccoletto, cane delle nevi. Allora, è bellino!